Recentemente mi è capitato molte volte di discutere intorno al ruolo della poesia ai giorni nostri, recentissimamente ancora un dibattito a Torino, proprio a questione 5-6 giorni fa. È un problema che si può porre in molti modi e che investe poi più largamente anche la posizione e il ruolo degli intellettuali. Per quello che riguarda la poesia, io ho l'impressione che sia un genere potenzialmente molto vivo, anche perché, che si dica, con tutto lo sviluppo tecnologico che sembra averla emarginata, se ne produce, se ne consuma molto più che nel passato. Supponiamo, si dice, si guarda la televisione, antiché leggere magari libri di poesia, si corre dietro all'isola dei famosi o cose di questo genere. Non è così, non è che non guardando l'isola dei famosi la gente un giorno passasse le proprie serate a leggere libri di poeti, era un'elite molto ristretta. Eravamo in Italia particolarmente, ma in generale, nella condizione sociale generale, paesi afflitti da analfabetismo di andata, analfabetismo di ritorno, nemmeno superato nei paesi più civilizzati totalmente ai giorni nostri. Quindi oggi si legge anche poesia, quanta non se ne è mai letta in passato e se ne produce, basta pensare ai giovani, io non conosco un giovane che abbia 18 anni che non scriva poesia. Questa poteva essere anche in passato un'aspirazione giovanile, però il numero degli alfabetizzati era scarsissimo, dominava ancora una tradizione di poesia orale, dialettale, nelle campagne, ma senza nessuna possibilità di circolazione, insomma. Un contadino calabrese o veneto viveva di dialetto e non era in grado di assumere la scrittura. La grande crescita scolastica fa che tutti scrivano e tendenzialmente possono anche leggere e di fatto per poco che leggono, leggono quanto non si era mai letto in passato, intanto con la poesia. E questo poi agisce anche sul piano della responsabilità degli intellettuali. A mio parere c'è un ruolo politico che è sempre stato quello di un intellettuale che voglia pensarsi organico rispetto a uno sviluppo della società. C'è un proletariato sconfitto a livello planetario che ha perso coscienza di sé. Allora, che deve fare l'intellettuale? Quello che ha sempre fatto è cercare di sviluppare la coscienza di classe presso un mondo come quello dei laboratori, dove questa si è deformata o è stata abbandonata anche in seguito a una sconfitta planetaria e al prionfo della globalizzazione capitalistica. È un lungo lavoro, è un durissimo lavoro, ma è l'unico lavoro da fare e da questo punto di vista, come dire, niente di nuovo sotto il sole. Si tratta di riprendere quello che avevano fatto anche nei momenti più disperati. In grande un Gramsci o un Benjamin e che oggi chiunque abbia a cuore le sorti di chi lavora non ha che da continuare per quello che può. Grazie. Grazie.